Ragazzi allora buongiorno a tutti, purtroppo mi sono visto la conferenza stampa di Allegri che mi sarei comunque evitato ma ovviamente per quello che faccio ogni tanto la devo vedere Allora conferenza stampa classica, solita, monotona, io partirei dall'ultima domanda che gli è stata fatta sul discorso Allegri ha continuato a dire Spalletti è un bravo allenatore, sa insegnare e quant'altro Un giornalista gli ha chiesto ma allora, ma se lui è bravo e sa insegnare tu che hai vinto cosa sei? A me è sembrata tanto una domanda proprio di, per fare proprio il leccacuro ad Allegri Sotto quell'aspetto Spalletti qualche mese fa ha detto una cosa sacrosanta, ci sono allenatori che vengono tutelati dalla stampa e altri allenatori invece vengono criticati per partito preso dalla stampa Purtroppo è così, a me non piace come si fa il giornalismo in generale ma soprattutto qui in Italia Sotto questo aspetto Spalletti per me aveva non ragione di più e Allegri proprio per me è l'esempio, è l'emblema Poi io ho una mia sensazione che Allegri farà purtroppo, anche se mi dicono il contrario, farà un altro anno alla Juventus Per poi accasarsi sulla panchina nazionale dopo l'Europeo E quindi anche per questo probabilmente qualcuno sa qualcosa e cercano di tenerselo buono perché poi potrebbe essere un attore della nazionale che dovrebbe insomma qualificarsi i mondiali di un 26 Dovrebbe Però al dia di questo è una mia sensazione, questi sono proprio su un castello che mi faccio io, però è una mia sensazione Detto questo, quella domanda lì è abbastanza, a me non è per niente piaciuta ma ormai non mi incazzo neanche più con giornalisti Con i giornalisti dovrei incazzarmi effettivamente perché tutelare così un attore ma lo vedo in giro, lo vedo ovunque Poi Caressa ha detto una cosa giusta, ho visto un video su TikTok, ha detto una cosa giustissima Cioè ci stanno le critiche, ci sta il fatto che a te non piaccia la nazionale, ci sta tutto il resto che tu non lo voglia e bla 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 Però poi quando finisci con l'insulto cade magari anche tutto il discorso razionale che hai fatto prima, questo è vero Però molte volte ci lasciamo andare da, diciamo, agli insulti facili, agli sfoghi facili Anche perché non è tanto nei confronti di Allegri, anche se comunque, o del narratore, insomma, che stiamo discutendo in quel momento là Anche se fa molto del suo per farsi non sopportare, diciamo, ma soprattutto per la sua fanbase, diciamo Quindi purtroppo è lì il problema, cioè noi chi critica Allegri viene condizionato molto anche dall'opinione totalmente contraria Ma a volte anche tendenziosa di molti tifosi che ci vengono contro e tifano più Allegri che la Juventus molte volte Tant'è che vedo dei post, per fortuna io su Facebook non sono amico di Allegriani, quei pochi che erano Allegriani li ho cancellati Quindi vabbè, comunque al di là di questo li ho rimossi E molte volte si dice anche che Allegri è il terzo allenatore più vincente della storia della Juventus Sì, è vero, ma è anche il terzo allenatore più longevo nella storia della Juventus, cioè quello che ha fatto più panchine, più anni alla Juventus Perché, se ne guardiamo, dopo Trapattone e Lippi c'è lui Il problema è che i primi due, Coppa Europea, li hanno vinte, Champions League soprattutto L'ultimo, l'ultimo, farà il prossimo anno, raggiungerà Lippi con gli anni e non ha vinto neanche una Champions Ok, e si esaltano i cinque squadri di fila in un campionato In campionati nei quali non erano proprio, non sono stati paragonabili Non erano paragonabili ai campionati che hanno vinto Trapattone e Lippi Contro quelle squadre lì, contro quei giocatori lì Cioè, bisogna dire anche questo Però quando si dice, no, sì ma tu non puoi pretendere la Champions Perché la nostra storia, pochi allenatori, solo due allenatori hanno vinto la Champions Tutti gli altri allora per te hanno fallito? Sì, sì, per me tutti gli altri allenatori che non hanno vinto la Champions hanno fallito Perché dovrebbe essere così Insomma, il tifoso juventino dovrebbe ragionare così se vuole essere ambizioso dopo 38 scudetti, no? Boh, ma l'aggravante di Allegri è che a differenza degli altri È il terzo allenatore appunto che è stato più sulla panchina della Juventus Perché questo è il settimo anno, prossimo anno se dovesse rimanere sarà l'ottavo anno L'ottavo anno Cioè, andremo nel decennio che a parte le parentesi sarà ripirlo Abbiamo avuto Massimiliano Allegri Qua sembra che oltre a Allegri non ci sia Juventus Per me è una cosa vergognosa È una cosa vergognosa All'ia appunto del calcio non calcio Che sapete bene come la penso sul discorso calcistico Però quando si dice appunto sta frasetta Che allora tutti gli altri allenatori hanno fallito E vi ripeto, sì E il problema è che nella nostra storia e bla 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 Il fatto è che, ripeto, l'aggravante di Allegri È che è uno degli allenatori più longevi E che ha fatto appunto più anni alla Juventus Quindi questa è un aggravante Rispetto magari a un capello Che anche lui comunque le sue cazzate le ha fatte Ha fatto due E io ripeto, ricordo che l'anno nel quale siamo stati eliminati Dall'Ajax Il percorso Dopo vedendo che il Tottenham ha eliminato il City Il percorso verso la finale Era quasi spianato Ok, era quasi spianato Avremmo affrontato il Liverpool Il Liverpool probabilmente in finale Non è detto che poi avremmo vinto Perché il Liverpool, ragazzi Non è che aveva chissà che giocatori È Klopp che li ha resi tali, eh È Klopp Jürgen Klopp che li ha resi tali Che sembrava una squadra imbattibile, fortissima È Klopp con il suo modo di vedere il calcio Che ha reso il Liverpool così forte Ok? E lì, quando dico che l'anatone per me vale tanto Quello è proprio A meno che appunto tutto uno debba gestire semplicemente una squadra di campioni Real Madrid ad esempio Allora lì ci sono delle percettuali che dipende dalla realtà E dall'ambiente nel quale sei Sì, nel quale sei Vabbè, comunque Al dia di questo No, si dice sempre Eh, ma la Champions Abbiamo affrontato in finale due squadre più forti degli ultimi 377 anni E tutte ste robe qua Quando tu hai avuto la possibilità Di Quando le spagnole sono andate in fase calante E tu avevi la possibilità di arrivare in finale E di potertela giocare magari di più Si è uscito prima Quindi di chi è la colpa lì Quando si arrivava nel pieno della stagione Che fosse una finale o un quarto No? Quindi da marzo, aprile fino a giugno Nel momento crudo della stagione Con tanti infortunati E con quelli che giocavano invece Comunque erano in condizione fisica In una condizione fisica pessima Di chi era la colpa? Se non del allenatore e dei preparatori atletici Di chi era la colpa? Quindi Allegri non è solo un discorso di gioco o non gioco Di calcio propositivo o speculativo È un discorso a 360 gradi Che non ha mai fatto il salto Collegandomi al video che ho fatto di 40 minuti l'altro giorno Mi sono dimenticato di dire anche questa cosa qui Del discorso dei preparatori atletici Anzi forse l'ho detta Che non li hai mai cambiati E lì è una colpa tua Non mi cambia E non hai cambiato mai la preparazione atletica Eccetera 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 Poi l'altra cosa L'altra cazzata che ha detto oggi in conferenza stampa È l'obiettivo quarto posto Allora O lo dice perché sa che i suoi giocatori Non hanno chissà che personalità Per reggere la pressione di arrivare primi O lo dice perché È sicuro che arrivando tra i primi e i quattro Comunque lui il posto Lo ha garantito Anche per il prossimo Però per il terzo anno di fila Puntare al quarto posto Allora tanto valeva Non dico tenersi Pirlo Ma prendere un attore per il quarto posto Perché ricordiamo Che a me ripeto Lo scudetto frega cazzi Ma che per i risultatisti Allegri era stato preso Quanto meno per vincere in Italia Poi Vincerà in Italia Benvenga Per carità Io Comunque Quello che dovevo dire su Allegri Ci ho azzeccato Perché quando mi dite Eh ma dovesse vincere lo scudetto Ho detto no ragazzi Andate a vedere il video di due anni fa Quando è arrivato Allegri Ho detto Per me non è un attore che può ricostruire E va bene Ma essendo in un campionato mediocre Il campionato te lo può vincere E va bene E Allegri lo giudicherò Sulle prestazioni in Europa Questo terzo passaggio Vi siete dimenticati Non in Italia In Europa E ho paura che in Europa Non sia così migliorato Anche se lo spero Ma il mio giudizio Lago della bilancia Sarà l'Europa E in due anni Se non mi vince la Champions Quanto meno mi deve far vedere Un miglioramento prestazionale E di risultati in Champions No? Invece non solo Si è peggiorato a livello prestazionale Ma addirittura di risultati anche Si è uscito ai gironi E quando si dice Ha fatto due finali di Champions Cose che hanno fatto anche altre In finali di Champions No ne hanno perse Ma ne hanno fatte Come discorso degli scudetti Non conta secondo me La quantità degli scudetti Conta la qualità Degli scudetti Perché anche lì Pina ha vinti cinque con noi Praticamente in generale Ha vinto una Champions Una compita continentale Ma in quel campionato là Con le sette sorelle Eh Qua abbiamo le sette vacche Praticamente Non le sette sorelle Con tutto rispetto No? Quindi sinceramente Anche là Il discorso della quantità Degli scudetti Non me ne frega un cazzo Di quanti scudetti Abbia vinto Non ha vinto nulla di più Rispetto a quelli che Hanno vinto prima di lui Con la Juventus Salvo appunto Quei due allenatori là Che io ci metterei Soprattutto Lippi Più che Trapattoni Perché Trapattoni Veramente ha perso la finale Più scandalosa Nella nostra storia Lippi ne ha perse Però direi questo Lasciamo stare L'85 Perché L'85 Non ce lo ricordiamo Non per la finale vinta Ma per quello che è successo Allì fuori dello stadio Giustamente direi anche Quindi E quando si dice No? Il terzo Non è più vicente della storia Allegri Nella sua bravura È stato anche Tra virgolette Non dico fortunato Però Ha Opportunista Nel senso che è stato Bravo A cogliere Il fatto che Conti Si fosse dimesso E ha raccolto La sua eledità Poi migliorandola Facendo qualche ritocco suo Per carità Ma non si fosse dimesso Conte Questo allenatore qua Non avrebbe vinto Tutto quello che ha vinto Quindi voi avreste comunque Esaltato Qualsiasi altro allenatore Al posto di Allegri Quindi non è che Allegri ha vinto Così tanto Per meriti suoi Ma perché È capitato Nella squadra più vincente in Italia E In quel momento là Più organizzata in Italia Quindi Meriti ne ha sicuramente Ma è Allegri Che deve ringraziare La Juventus Non viceversa In Europa Rispetto a Conte Si A livello economico La società deve ringraziare Allegri Per le due finali fatte Ma il tifoso Il tifoso Non deve ringraziare Cioè Le due finali Dove me le attacco Se le perdo No? Perché vincere non è importante È l'unica cosa che conta Poi per le finali Chiunque affronti C'è sempre una giustificazione L'arbitro L'episodio La squadra più forte No? Detto questo Ad Allegri Non ho mai detto nulla Sul discorso appunto Che comunque Cioè non è il principale È uno dei responsabili Ma non è il principale Responsabile Per le due finali perse Perché come succedeva Con Lippi Anche con lui Gli cambiavano Metà squadra Ogni caso di anno Poi quando dovevi Cambiare effettivamente Tutta la squadra Metà squadra Perché hai cambiato Filosofia di calcio Passando da Allegri A Sarri Non l'hai fatto E sei rimasto Propriamente con gli stessi E lì vedete L'errore societario Purtroppo Abbiamo un asset societario Che a livello europeo Rimane provinciale C'è poco a fare In Italia potrai vincere Continuerai a vincere Perché è la tua storia Che lo dice Ma si potrebbe anche Cambiare la storia in Europa Tant'è che L'unica volta Che con la stessa mentalità Perché per carità Anche ai tempi dell'avvocato Cioè avevamo questa mentalità In Europa L'unica volta Che hai avuto Un allenatore diverso A livello di mentalità Hai vinto in Europa Parlo di Lippi Con continuità Sei rimasto lì Comunque non è che Hai vinto a Champions Poi sei sparito Poi l'hai perso Le finale Ma sei rimasto lì Sei rimasto lì Ok Ecco Sul discorso del quarto posto Obiettivo come Un quarto posto A me pare abbastanza Poi lasciamo stare No Le altre frasi retoriche Che Napoli ha favorito Che poi Io ripeto per me Io ho detto quarto posto Il Napoli Per me rimane La quarta rosa Del campionato Ma ve lo Continuo a ribadire Cioè Per me Sopra l'Inter Al Napoli Ci sono Inter prima Juventus seconda Terza Milan E quarto Napoli Per me è così Diciamo il campionato Diciamo le rose Di questo campionato Quindi Il lavoro Importante Lo sta facendo Spalletti Perché a livello di rosa Di panchina Non è che il Napoli Sia Che squadrone Non è come la Juve Di 5-6 anni fa Che aveva due panchine Perché già Verso Cioè due squadre Perché già verso La fine degli scudetti La Juventus Non aveva più due squadre Neanche nel tempo Nell'anno di Sarri Quando si dice Sì ma Quando si giocava Una volta di tre giorni Da giugno a luglio Eravamo più favoriti Rispetto alla Lazio È una cazzata questa Perché neanche la Juve Aveva chissà che rosa È un Douglas Costa Che poi ha iniziato Ad avere i soliti problemi Iguain Che era un ex giocatore Di Bala Che si è svegliato Ma ha fatto Ragazzi L'hanno esaltato Ha fatto 11 gol Non è che ne abbia fatti Chissà quanti Ok L'unico era Ronaldo Gli altri a centrocampo Era un Rabiot Che non era Chissà che giocatore In quel momento là Che neanche adesso Mi fa impazzire Però sta meglio Sta messo meglio adesso Ramsey che Prima Fino a febbraio Era un giocatore aggiunto Dopo Quello che sappiamo Da giugno Non è più stato in campo Praticamente Quindi non è che Avessimo anche noi Chissà Che rose In quell'anno là Però Al di là di questo Finito Mettiamo un attimo Da parte il discorso La conferenza stampo Perché poi là È il gioco delle parti Anche Spalliteto Che siamo noi La più forte La più forte Per me Rimane l'Inter E Simone Inzaghi E un altro Che piange Una roba allucinante Poi ecco Altra roba Allegri mi va a dire Basta Con questo discorso Vivendo Salernitana Sei stato te Ad andare avanti Per due o tre settimane Ecco Quell'episodio là Che è gravissimo Ma continuare A rimarcarlo Non faceva altro Che trovare Giustificazioni ai giocatori Tant'è che adesso Non lo tiri più fuori Perché? Perché stai vincendo Da 8 partite in fila Quindi Quello che vi testimonio E vi dico sempre io La maggior parte La maggior parte degli allenatori Quando non vincono Sono tutti provinciali Sentirete pochi allenatori Dire Ho sbagliato io È colpa mia Pioli l'altro giorno L'ha messo sui discorsi infortuni Quante volte avete sentito Dire da Allegri Che è colpa nostra Mia Del mio staff Se abbiamo tutti sti problemi Fisici Mai Mai Quindi Poi per quanto riguarda Allegri Il discorso del gioco Non gioco Allora Allegri È questo tipo di allenatore qua Lui allena squadra all'italiana Durante gli allenamenti Cioè gli fa fare Ripetute Corsa Resistenza Lavora sulla Sulla resistenza Tra virgolette Sulla tenuta del campo Per quanto riguarda A livello tattico Lavora sulla Lettura delle azioni In fase di non possesso Soprattutto Non sul pressing alto Lavora sul Pressing difensivo Lavora sulla Sulla chiusura Delle linee di passaggio Cioè Così lavora Allegri E Quando devi mettere La squadra in campo Lavora sul Appunto Non prendere gol Nel senso che Dice Io comunque Ho una delle squadre più forti Dell'Italia In questo momento qua All'epoca La squadra nettamente più forte La giocata Prima o poi In 90 minuti Sicuramente la trovo Quindi Il mio primo obiettivo È non prendere gol Soprattutto nel primo tempo E domani farà la stessa cosa Siccome Come abbiamo visto Le ultime partite Cercherà di Contenere il Napoli Ok E di Poi reagire Nel secondo tempo Cercando magari Un gol Una giocata individuale Sicuramente facendo qualcosa di più Nel secondo tempo Poi magari domani Troviamo il gol subito E poi magari Perdiamo 4-1 Non lo sappiamo Però Giusto per farvi capire Siccome è così Che ragiona Allegri Adesso Ma già da tempo Da quando si vinceva No Nettamente Il problema è che là Veniva un po' Nascosta sta cosa Dalla qualità Dei singoli Napoli-Juventus 0-1 Gol di Higuain Quello per me è l'emblema No Contropiede Costa Di Bala Higuain Non sono meccanismi Studiati da Allegri Quelli Sono giocate individuali Movimenti che fanno loro Di natura Ok Quello è Però Al di là di questo Questo è Allegri È pigro sul discorso Del lavorare Sui meccanismi Non è un allenatore Che lavora sui meccanismi Offensivi Perché non Non lo sa fare Non vuole farlo E non lo fa sentire sicuro Su quell'aspetto lì Cioè Lui si sente più sicuro Lavorare sulla fase difensiva Sul Vedere una squadra Solida Compatta dietro Questo è Allegri E come Tutti gli altri Che ragionano come lui Come Simeone Faccio un esempio Non è un allenatore Che si sente sicuro Quando ha il possesso Il pallone Poi Ragazzi Non è un discorso Di tiki-taka Perché Lippi Dominava Le altre squadre Il primo Il primo Lippi In verticale Lui È arrivato 20-30 anni prima Rispetto A Jürgen Klopp Cioè lui faceva già Quel tipo di calcio Un calcio verticale Pressing Ultraoffensivo Si recuperava palla Si ripartiva Si dominava il gioco Ma comunque si cercava La verticale Su Vialli I ravanelli Del Piero Questo era Lippi Quindi lui È arrivato già prima Di Klopp Sotto questo aspetto Quindi A me non è che Piace vedere una squadra Che domina Con il possesso Palla e basta Perché noi contro Villareale abbiamo fatto Questo Ma cosa vi ho detto Ma già l'intervallo Quando eravamo Sullo 0-0 Così non si va Da nessuna parte Perché si Hai possesso palla Ma te lo lasciano Opposta Perché sanno Che Allegri Non lavora Sui meccanismi Offensivi Poi le 7 stack Abbiamo perso 3-0 Ma proprio Era il concetto Era il concetto No Quindi non è un discorso Del possesso palla Io Vorrei Per una volta Avere la sensazione Che la mia squadra Che la mia squadra Domini L'avversario Che metta una sua identità Di gioco In campo E che sia l'avversario A doversi adattare Alla mia squadra Non viceversa Ok Questo è il mio Discorso Che faccio su Allegri Le mie battaglie Su Allegri Ma ve l'ho già detto Nel video Dell'altro giorno Di 40 minuti Questo è Il mio senso Poi Per quanto riguarda Napoli-Juventus Allora Questi qua Fanno i casini Ok Fuori dagli stadi E Limitano I nostri tifosi Cioè Ieri Lanza Ha riportato Che Non ci sarà Nessun divieto Di trasferta Per Napoli-Juventus Del 13 gennaio Ma aumento Dei controlli Con servizi Di filtraggio Dei tifosi Ospiti In partenza Lo ha deciso L'osservatore nazionale Sulle manifestazioni sportive Cioè voi ditemi Che questi fanno i casini E Controlleranno Il buco del culo Praticamente Ai nostri tifosi Capite che Questi qua Non vengono mai puniti Cioè La tifosi Nel Napoli Il Napoli Non viene mai punita Mai Ma non vengono mai puniti Questi Poi canti un coro Contro Napoli Ti squalificano le curve Una roba lucidante Io non sono Per la chiusura Le curve Però se c'è Se voi chiudete Le curve da una parte Le dovete chiudere Soprattutto Quando succedono Delle cose Certe cose Dall'altra Invece del Napoli Non ho mai visto Curve chiuse Mai Mai E hanno fatto Ben peggio Rispetto a un coro Del cazzo Sinceramente Vabbè Comunque Per quanto riguarda Napoli-Ventos Poi ne parleremo Domani in live Su disamina bianconera Cerchiamo di Rivedere un attimo Il da farsi Di come Gioca un po' Napoli Piccola anticipazione È che comunque Il Napoli gioca In fase di possesso Quando gioca con Zelischi Soprattutto con 4-2-3-1 Perché in fase di possesso Zelischi Si butta Sulla Sulla tre quarti Avversaria In fase di non possesso È un 4-3-3-1 Cioè Lì anche là Vedi no La mentalità offensiva Che in fase di non possesso Comunque rimane Un modulo offensivo In fase di possesso Appunto È un 4-2-3-1 Con Zelischi Che si butta Tra le linee Poi C'è Lozano Di solito a destra C'è Guarasca e la sinistra C'è Ozyman centrale E appunto Poi i due Centrocampisti Come sapete bene Sono Lobotka Che l'ha rivitalizzato Spalletti E anche sa Che è un giocatore Che comunque È un buon giocatore Che in Italia Sta ben figurando Però ricordiamoci Che è stato mandato via Dal Fulham A 27 anni Dalla Premier League Sicuramente Se un giocatore Dalla Premier League A 27 anni Retrocede Tra virgolette Nel campionato italiano Un motivo ci sarà E non parliamo Del Liverpool O del City Parliamo del Fulham Ok Con tutto rispetto Quindi Però Al di là di questo Poi hanno preso Stokim Che sta dimostrando Delle buone cose Ma siccome è proprio Il contesto Che lo sta Facendo rendere bene Spalletti è stato Molto bravo Sul riuscire a trovare Siccome l'asset Diciamo Un asset Tra Ramani E Kim Perché secondo me Soprattutto Per quanto riguarda Le coppie difensive Non è facile Trovare Una solidità Difensiva Così in poco tempo Con una coppia Totalmente nuova Ok Con un giocatore Appena acquistato Quindi Gli Spalletti è stato Molto bravo Di Lorenzo Lo sappiamo È un giocatore Per me Normalissimo Però sicuramente In Italia Sta facendo molto bene E d'altra parte Mario Lui Che probabilmente Verrà scelto lui Al posto di Oliveira Che sappiamo bene Che cosa Che è un giocatore Anche lui Normalissimo Anzi io Per quanto mi riguarda Mario Lui È un giocatore mediocre Solo che nel contesto Napoli In questo campionato qua Sembra che sia Chissà che giocatore È migliorato Sui cross Sicuramente È migliorato Sulle sovrapposizioni Per carità Su altre cose Però Per me è un giocatore Normalissimo Io ripeto Squadra completa Che lì è un problema Comunque di Allegri La Juventus Per me rimane Superiore al Napoli Ok Individualmente Ma se noi andiamo a vedere Individualmente I giocatori di D Che andranno in campo Dei nostri domani Molto probabilmente Al dià che sono tutti nazionali Questo è un discorso siccome Insensato Però anche a centrocampo Al dià che Locatelli Purtroppo ha deluso tanto Quindi se devo paragonare In questo momento qua Lo Botka Ma due anni fa Lo Botka Faceva la panchina A Napoli Non è che Spalletti Che l'ha rivitalizzato Quindi Per me Lo Botka Non è così tanto Superiore a Locatelli È la natura Che lo Diciamo Valorizza A me Locatelli Non piace Per me Non è un giocatore Da grande squadra Vabbè Però In questo momento qua Sicuramente è meglio Lo Botka Se noi guardiamo In questo momento qua Rabiot Al dià Delle prime due partite Del 2023 Che non mi è piaciuto Tantissimo Però sicuramente In condizione Dall'altra parte Poi abbiamo Probabilmente Gioca la Fagioli E là vabbè Vedremo Se gioca la Fagioli Qualcun altro McKennie Tutta fascia È altra roba Fanno tanto I seapentoni Conferenza stampa Ma è una domanda Calcistica ogni tanto No Cioè Chiesa Lo vedi Tutta fascia E se sì Non ti pare Rischioso Metterlo lì Soprattutto dopo Un infortunio Del genere Perché Se lo vede È veramente lì È una domanda Anche per sciogliere Un po' di dubbi Che abbiamo Lo vede lì O lo vede come seconda punta Domande calcistiche Non ne fanno Non ne fanno Vabbè Comunque Al di là di questo McKennie comunque È stato Il secondo migliore Dopo Adams Secondo me Per gli Stati Uniti Nel Mondiale Per me Ripeto È un giocatore Rispettabilissimo A me è piaciuto Ad esempio Contro l'Udinese A molti nomi Sì Anche Da tutta fascia Che non è sul ruolo Per me È uno schifo Vederlo lì Però Per me Appunto Non essendo sul ruolo Per me ha fatto Un buon primo tempo E un ottimo secondo Da mezzala Però Capisco che poi Quando si etichetta Un giocatore difficile Poi levargli Quell'etichetta lì A sinistra Abbiamo Kostic Che a me non fa impazzire A beh Ma secondo me A livello di individualità Leviamo Gli allenatori A livello di individualità Per me Siamo meglio noi Cioè in difesa Danilo Abbiamo I tris Praticamente Del Brasile Danilo Bremer Alexandro Magari possiamo Levare Alexandro Però Danilo Bremer Per me Sono più forti Dei due Centrali loro Ok Di Ramani E di Kim Poi Aspetta Di Kim Forse siamo lì Bremer Kim Secondo me Siamo lì E poi L'attacco Di Maria E Milik Che se di Maria Sta bene Di Maria Per me È ancora Il più forte Esterno D'Italia Cioè È più forte Sicuramente Di Leao E Kvara Skala Quindi Se devo dire Faccio paragone Di Maria E Kvara Skala Se di Maria Sta bene Di Maria È più forte C'è poco a fare E Kvara Skala Ripeto Per me È stato sopravvalutato Per i primi mesi E qua È l'errore Che si fa con Italia Se un giocatore Parte male No Come è successo Per De Catteler E vedremo Se poi Effettivamente Migliorerà Nei prossimi anni Basta Si critica Già Si mette già No Un pallino rosso Su di lui Se invece Uno parte bene Già ha un potenziale Fenomeno E così si sbaglia Poi Osim e Milik In questo momento qua Sta meglio Osim Ma a livello generale Se devo parlare A livello generale Preferisco Milik Cioè Nonostante io gli abbia dato 4 Però Ho detto anche in quel video là Di presentazione Levando gli infortuni Milik è Un attaccante moderno Un attaccante che ti sa Smistare Fare assist Fare gol Tirare anche le punizioni Quindi a livello di completezza Se Milik sta bene Per me è meglio Milik di Osime Ok Quindi per me come squadra E Shesley Per me è più forte In meretta Per me come squadra Come individualità Noi siamo più forti Il problema È che abbiamo perso punti All'inizio Come sempre Come fa Allegri Ogni anno Solo che quando hai la squadra più forte Li recuperi E stravinci Quando sei lì Insomma per giocartela Lì la differenza La fa la natura Poi vedremo Perché poi Di solito Da gennaio in poi Il Napoli E Spalletti calano Quindi vedremo Cosa succederà In questo Fino a questo momento qua Spalletti Ha dimostrato Di essere più bravo Di Allegri Quest'anno Ok Poi vedremo In futuro E fa un calcio Propositivo Un calcio che comunque sa Sia attaccare Sia difendere Fasi non possesso Sa fare Sia il pressing Oltreoffensivo Sia quello difensivo Sa aspettare Sa Palleggiare Sa quando accelerare Quindi Il Napoli Siccome è sotto questo aspetto Ha delle individualità Importanti Ma non punta Tutto sulle individualità Cosa che secondo me Fa Allegri Ma ripeto Quando sei la squadra Più forte Nettamente più forte Come è successo Negli anni passati Puoi permetterti Di giocare Come cazzo vuoi Ma proprio perché Sei la più forte Nettamente più forte Sai Che al 90% Deve volte Vinci lo scudetto Avresti dovuto Secondo me Migliorare La tua fase offensiva E lavorarci su E Allegri per me Lì ha sbagliato Totalmente Punto Poi Chiudo dicendo Che 8 anni fa Ho fatto un video Che poi ho dovuto eliminare Riferendomi appunto A Napoli Juventus Quello che succedeva Allo Juventino Quando andava A Napoli Allo stadio Del Napoli Nel giorno Di Napoli Juventus Non 365 giorni L'anno Ma in quel Fatidico Giorno Era un incubo Per un tifoso Juventino Usai No Sbagliai Con certi termini Sicuramente Ma ero Dalle prime armi Quindi io Sicuramente Tornando indietro Non rifarei Questo errore qua Però Al di là di questo Ribadisco Il concetto Napoli Juventus Juventus Andare Allo stadio Nel settore ospiti Non era proprio Pacevole E allora Un'emittente Campana Ha Praticamente Ha preso Quel video lì Emittente Anche Abbastanza importante Perché all'epoca Mi chiamavo Con un altro nome Mi ha Diciamo Ha fatto un articolo Contro di me Ok Facendo un passaggio Come Quello cattivo Che attacca Il popolo napoletano Cosa che non è vera Ho detto È semplicemente Una cosa Che mi è stata Testimoniata Non da uno Non da due Ma da decine 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 Di persone Che a Napoli Ci sono andati In Napoli Juventus E soprattutto È molto difficile Essere juventino Tra virgolette Napoli E chi vive lì Lo sa benissimo Però al di là di questo Per me Era finita lì Nel senso che Io ho detto Le testimonianze Che mi sono arrivate E bisognerebbe Ogni tanto Informarsi Anche dall'altra parte Non solo dalla parte Magari del napoletano Ma anche dalla parte Dello juventino Però So che questa cosa qui Per i giornalisti È molto difficile Immedesimarsi E informarsi Veramente E informare Veramente È molto più facile Fare disinformazione Per far attaccare Un po' la gente E questo Io ho Purtroppo Il giornalismo Qui in Italia Vi ripeto Sul giornalismo Qui in Italia Ci ho perso la fiducia Da anni Anni E anni Comunque Al di là di questo Io Detto questo Vi auguro Buona giornata a tutti Domani appunto È il giorno di Napoli Juventus Vedremo come andrà a finire Io Ho pronosticato Che la Juventus Domani Per me Vince Ve lo dico là Per me Vince Non so come Non so perché Non so Per me Vince Poi magari Mi sbaglierò Molto probabilmente Mi sbaglierò Ma per me Vince Vedremo E si riaprirà Il campionato A meno 4 Poi Ripeto È una mia sensazione Probabilmente Mi sbaglierò E qualcuno mi dice Ma se Allegri Lo critichi tanto Perché Dici che vince Se il campionato Perché io Sul discorso Scudetto Lo ripeto Non sono mai stato Dubbioso Per me Allegri sarebbe tornato A vincere lo scudetto Dal secondo anno E vedremo Vedremo Per me Qualcosina Poteva fare in più Anche l'anno scorso Sullo scudetto Se vogliamo dire Vabbè Ragazzi Buona giornata a tutti Sempre comunque Fino alla fine Forza Juventus E vediamo come Come andrà domani E domani pomeriggio Comunque Su disamino biancolera Parleremo un po' Meglio Tatticamente Di Napoli E di Juventus A domani Ciao a tutti